In qualità di associazione siamo stati chiamati per poter gestire questo contest sulla moretta. Oltre alla classica moretta avremo sicuramente modo di assaggiarne di diverse perché ognuno ha la propria ricetta che costudisce in modo molto 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 geloso, quindi siamo molto curiosi di cercare di capire quali sono le differenze tra l'una e l'altra. Abbiamo voluto vedere la fantasia, quindi scoprire la fantasia e creare anche un contest per una moretta evolution, quindi quello che potrebbe essere al giorno d'oggi l'evoluzione di questa bevanda. Ecco l'associazione è quella che intende a questo contest ma l'ABI ha una mission ben precisa. La nostra mission è quella di comunque sia mettere al corrente il cliente di quello che praticamente va a bere. Quindi abbiamo costruito un'etichetta, abbiamo elaborato un piccolo libricino che cercheremo di distribuirle nelle scuole alberghiere e a tutti gli operatori per avere una sorta di salvaguardia sia per la ricetta in sé per sé e nello stesso tempo avere comunicazioni da poter dare al cliente in merito ai grammi alcolici, alle kilocalorie, al gusto, al colore perché riteniamo comunque sia giusto ed opportuno che il cliente sia a conoscenza di quello che beve, di quello che è il cocktail. Alla fine di tutto però l'ABI decreterà il Morettaro 2019. Abbiamo a disposizione i migliori bar che presentano la Moretta oggi attualmente nella città di Fano. Se vi trovate nei paraggi credo che sia giusto fare una passeggiata anche perché ci sarà una giuria popolare quindi daremo delle tabelle, ribadisco, sarà un contest molto divertente.